Siamo qui a Portercole alla presenza di un pescatore, appena rientrati. Appena rientrati, sì. Giornata quindi faticosa, di pesca? Faticosissima, da luna di notte. Che cosa avete pescato? A Scampi, siamo stati a Scampi. E la sua giornata come si svolge, diciamo, quando lei parte e diciamo il proseguimento poi di tutto il suo lavoro? È normale, si parte verso luna, alle due di notte, si fa la prima cala di avvicinamento per poi calare di sequenza a Scampi. Si fa tre calate, quattro calate e si rientra. E' soddisfatto del suo lavoro? Soddisfatto? Questo lavoro qui si fa magari per generazione e anche per passione, però poi in fondo in fondo si stringe poco. Infatti c'è un po' di malcontento. Sì, perché le ore sono tante. Le ore sono tante e poi non è che è un lavoro statale che la paga tutti i 27 del mese e viene. Qui se non viene dal rullo, cioè di poppa, se non c'è il pescato, ce la paga, sì, ma non è quella che dovrebbe essere. Per gente che lavora 15 ore al giorno. Siamo qui con Roberto. Porto Ercole, un ambiente di mare, pescatori. Lei è il più anziano? Tranquillo, un ambiente tranquillo, pochi pescarecci. Prima erano parecchi, ora sono diminuiti più, un po' più per il personale, un po' non si va più avanti. Infatti c'è un malcontento, tutti quanti sono un po' stanchi. No, 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 non si va più avanti. Poi tra spese, la pesca, pagati qua, pagati là, non si va più avanti. Lei è un armatore? Sì. Da quanto tempo fa questo lavoro? Io sono 25 anni. Quindi giovane, c'è chi ha lavorato tantissimi anni di più. Eh certo, certo, 40 anni. Oggi com'è andata? È pesca fortunata? No, non ci lamentiamo, ma non è che sia fortunata, fortunata. Gli è mai capitato di pescare pesci diversi dal solito, che ne so, tartarughe, altre specie? Sì, capitano, specialmente la tartaruga la ributtiamo in acqua. È capitato qualche divedere, qualche capodoglio, fuori l'isola di Giannutri. Delfini? Delfini, anche ora, abbiamo visto. Rolando Patarca, presidente del consorzio Piccola Pesca. In che cosa consiste, Rolando? Il consorzio Piccola Pesca è un insieme di cooperative originari di Porto Santo Stefano. Abbiamo costituito un consorzio per approntare tutto il discorso della filiera, della commercializzazione e per tutti quei problemi che ci sono a carico delle varie cooperative. Racchiudiamo sia le cooperative di Porto Santo Stefano, Montargentario, tutta la provincia di Corseto. Andate a pesca, quindi, la mattina? Come si svolge la vostra giornata? Innanzitutto noi siamo cooperative di piccola pesca, anche se già hanno fatto domanda di adesione a alcune barche di grande pesca. Chiamiamola così perché comunemente viene chiamata piccola e grande, differita, ma comunque è sempre messiere di pesca. Noi siamo quella pesca famosa, tradizionale, antichissima, fatta con reti artigianali, con reti da posta, con attrezzi da posta che vengono messe la mattina e salpate la sera. Ok, reti a maglia piccola, grande, come sono queste reti? Ecco, questo è un grande discorso che non abbiamo affrontato con due minuti, insomma, perché noi, diciamo del consorzio Piccola Pesca, su questo siamo all'avanguardia in tutta Italia, perché abbiamo capito che più prelievo mirato, più prelievo di pesci selezionati, meno impatto ambientale, meno danno per noi stessi. Insomma, il mare è un grande orto che va zappato, se non riusciamo a zapparlo tutti i giorni e a coltivarlo, ne traiamo i frutti. Se questo non lo facciamo e facciamo a prendere tutti i giorni comunque qualsiasi cosa, poi alla fine la situazione la conoscete, perché opinione di tutti e documento di tutti la situazione del Mediterraneo è quella che è soprattutto dell'argentale, delle nostre coste, insomma. Giuliano, i pesci che voi pescate, quali tipi sono e in che quantità? In quantità, insomma, il pesce è stagionale, no? Per esempio, in tre mesi, nella primavera si prende un'avate, sara, poi durante l'estate viene il dente, poi durante il vento c'è i seppi, poi si prende tutto il pesce. Maggior qualità, minor prezzo. Quello è il discorso del piccolo consorso, di vendere il pesce noi stessi, vale a dire morire noi da soli senza che ci fanno morire gli altri. Ecco, questa è una... E quindi voi la gente la trovate soddisfatta da questo punto di vista? La soddisfazione è l'uomo portando il pesce qui alla mattina, che la gente viene dietro proprio al pesce per prendere il pesce vivo. Grazie. 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 Grazie.